morto il pompiere di rimini giovane fanese dovrà rispondere d'omicidio tari i pagamenti possono slittare a novembre baia flaminia si adegua al regolamento sulle decoro urbano boomerang wind festival riporta fano agli anni 80 90 repegia ora ufficiale secondo addio alla vl una buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di rossini news telegiornale di martedì 13 giugno che apriamo con la cronaca perché dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario claidi miestri 28enne albanese residente a fano ritenuto responsabile della morte di giuseppe tucci 34enne vigile del fuoco vittima di una colluttazione letale nel locale frontemare di rimini tucci si è spento ieri dopo che domenica ne era già stata dichiarata la morte cerebrale l'autopsia al momento è rinviata per autorizzare l'espianto degli organi secondo le indagini miestri butta fuori del locale sarebbe accanito su tucci con calci e pugni reiterati al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza per comprendere meglio la dinamica dei fatti intanto domani nel carcere di rimini ci sarà la convalida dell'arresto per l'accusato lasciamo la cronaca e cambiamo argomento prendono forma le prime agevolazioni sui pagamenti rivolti alla cittadinanza compresa all'interno dei comuni danneggiati dalla recente ondata di maltempo di maggio è il caso ad esempio dei pagamenti della tari previsti questa settimana e che invece ora diventano procrastinabili addirittura fino al 20 di novembre fra gli effetti del decreto alluvione emanato il primo giugno scorso dal governo meloni c'è quello della sospensione di molti tributi e pagamenti per i comuni inseriti nell'elenco di stato d'emergenza per i danneggiamenti subiti dalla scorsa ondata di maltempo sono sette i comuni inseriti nel decreto per quello che riguarda la provincia di pesero urbino vale a dire pesero fano urbino gabice mare monte grimano terme monte labate e sasso corvara auditore per i residenti in questi comuni è stata prevista la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in scadenza nel periodo primo maggio 31 agosto 2023 rientra pieno in questo discorso la tari ovvero il tributo comunale su rifiuti di stringente attualità visto che la settimana corrente era stata individuata come la settimana del pagamento della prima di quattro rate o in alternativa del pagamento in un'unica soluzione una data che per quel che riguarda pesero era fissata al 16 giugno con il decreto in vigore la data di pagamento invece ora procrastinabile fino al 20 novembre 2023 per agevolare i territori che hanno subito danneggiamenti data ultima in cui i versamenti sospesi potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione data limite del 20 novembre che vale per la tari vale per i versamenti imu ma anche per contributi previdenziali assistenziali premi assicurativi obbligatori cartelle esattoriali e ritenute alla fonte degli addizionali comunali e regionali irpef da parte dei sostituti d'imposta in vista di 2024 si allargano le zone in cui il comune di pesaro ha previsto un regolamento per il decoro urbano regolamento al quale si deve adeguare anche la zona dei locali di baia flaminia come vediamo in questo servizio ci troviamo questa mattina in baia flaminia dove i giorni scorsi una piccola percentuale di commercianti della zona hanno sollevato la polemica per quanto riguarda il nuovo regolamento che entrerà in vigore il prossimo marzo 2024 noi oggi siamo qui per ascoltare la voce del presidente dell'associazione dei commercianti di baia flaminia che invece copre il 70 per cento degli esercizi commerciali della zona che ci conferma il fatto che il regolamento è stato scritto di comune accordo con l'amministrazione comunale allora l'associazione è nata a maggio dell'anno scorso nasce perché come piccoli imprenditori ristoratori centri estetici tabacchi stiamo cercando di mettere le forze tutte unite per poter migliorare tutto quello che è la situazione della baia flaminia con le varie problematiche da a partire dal traffico miglioramento dei parcheggi tutto quello che possiamo fare nel nostro piccolo per la baia flaminia allora le nuove disposazioni sono state un po viste male diciamo così ma realmente come associazione noi lavoriamo da un anno con il comune in modo particolare con la frinque luci e con davide i paso di confesercenti i quali abbiamo abbiamo messo su un po condividendo questo regolamento le nostre richieste realmente sono state tutte accolte solo va rivisto ecco perché è stato interpretato con alcuni dettagli male come l'esempio sono i cambi di tavoli e sedie realmente con il comune abbiamo detto di no ognuno rimarrà con i propri colori proprio per identificarsi nella baia flaminia la cosa che invece abbiamo pattuito insieme quella che magari i dior esempio i vasi quello che possono essere gli ombrelloni e gazebi debbano essere tutti dello stesso colore quindi abbiamo scelto un bianco o beige insomma un colore chiaro purtroppo ripeto è stato interpretato male sicuramente con un effetto politico perché l'accordo che noi proprio abbiamo fatto cioè quando abbiamo stilato il regolamento insieme non parla assolutamente di tavoli e sedie in nessun modo ma parla solo di fioriere e di vasi di ombrelloni di gazebi tutto tutto tranne quello che sono i tavoli e le sedie è stata fatta proprio una scelta proprio per noi abbiamo locali tutti molto vicini proprio per identificare un locale da un altro a differenza di altri che hanno magari criticato o interpretato nessuno oltre alla frinque bellucci oltre a davide i paso sono venuti con noi a vedere la realtà di quello che è la baia flaminia è facile parlare senza viverla uno dei problemi che ancora non trova soluzioni è quella del passaggio dei cani sotto i portici saranno previste infatti molte salate per chi permetterà agli amici a quattro zampe di fare i propri bisogni sui muri delle vetrine senza pulire i bisogni degli animali è un problema importante e viene sottovalutato purtroppo la zona della baia con i portici è piena di urina di cani io c'ho il cane sono felice di averlo sono innamorato degli animali però non implica che loro vengono a fare i bisogni nelle nostre vetrine nei tavoli e le sedie dei ristoratori l'accordo qua non si trova abbiamo provato anche con gli abitanti di trovare una soluzione ma non l'abbiamo mai trovata è una realtà brutta noi siamo i primi che se ce lo chiedono gli diamo noi l'acqua vuoi cioè l'hai fatta capiamo ti do l'acqua volentieri no se tu glielo provi a dire qui veniamo tutti criticati tutti offesi perché è un cane continua anche il grande lavoro di inclusività per rendere accessibile ogni luogo di baia flaminia anche a persone con diverse capacità motorie questo è un problema che stiamo guardando con con cuore abbiamo chiesto anche nuovi scivoli per per far entrare le pedane con le possibilità lo stesso tavoli fatti con le normative giuste e quindi è una cosa che noi abbiamo preso abbastanza a cuore normale che siamo un po indietro bisogna essere onesti e quindi cerchiamo noi in modo particolare come associazione abbiamo richiesto tutte delle situazioni esempio gli scivoli sui marciapiedi perché qui siamo in carenza e anche gli spazi nei tavoli nel regolamento c'è scritto abbiamo chiesto degli spazi per i tavoli proprio per riuscire ad andare incontro a tutti la camera di commercio delle marche ha diffuso oggi i dati relativi all'export regionale del primo trimestre 2023 numeri confortanti che fanno da apripista agli stati generali della internazionalizzazione che si terranno nel weekend a colli del tronto le marche sono pronte a ospitare le rappresentanze imprenditoriali del mondo dal 16 al 20 giugno a colli del tronto si terrà la 32esima convention delle camere di commercio italiane all'estero un'opportunità sensazionale come sottolineato oggi da roma dal presidente camerale delle marche gino sabatini assieme al presidente di union camera andrea prete e a quello di asso camera estero mario pozza che ha sintetizzato in numeri il valore della convention avremo 80 camere di commercio presenti in rappresentanza di 59 paesi 174 delegati 56 presidenti 70 segretari generali 48 collaboratori questo per darvi un quadro di cos'è il sistema camerale italiano all'estero l'abbiamo fatta nelle marche perché perché le marche una regione molto produttiva la regione delle piccole e medie imprese assomiglia molto al mio veneto e quindi a lì ci sarà veramente una quattro giorni importantissime una cinque giorni importantissime parliamo di 1370 incontri che stanno aumentando in questi momenti e con oltre 360 imprese che si sono iscritte agli attori collegati come le camere commercio estere all'interno di questo pacchetto di imprese che si sono iscritte ai b2b si trattano soprattutto di pmi che vogliono avere la possibilità di interloquire con il mondo estero che hanno dei brand importanti che hanno delle dei prodotti da poter inserire in questi mercati parliamo di uno satura importante del tessuto economico maschigiano e pensiamo e chiediamo fortemente che hanno sono quelle imprese che hanno più necessità del supporto proprio del mondo camerale per quanto riguarda l'internazionalizzazione a sottolineare l'opportunità straordinaria dell'appuntamento di colli del tronto anche il governatore francesco acquaroli raggiungere mercati esteri che altrimenti non potrebbero raggiungere perché da sole sarebbero impossibilitati è per noi una ricchezza incredibile una ricchezza perché porta lavoro porta risultati e porta opportunità ma una ricchezza perché ci fa crescere ci fa confrontare con circuiti che poi sono da stimolo sono essenziali anche per garantire quella che è la possibilità di crescere proprio il sistema intero nell'occasione odierna sono stati presentati anche i dati dell'export del primo trimestre del 2023 con segno positivo trasversale alle province marchigiane ma con lieve flessioni su pesaro esportazioni che valgono 8 miliardi di euro le province marchigiane hanno avuto dei numeri a macchia del leopardo ma sono numeri importanti noi ancora riusciamo a tenere su tanti mercati abbiamo un trend molto alto dovuto al fatto degli interscambi commerciali con i prodotti farmaceutici ma abbiamo anche settori importanti che si stanno posizionando nel mondo con le nostre imprese pesaro si prepara al passaggio delle mille miglia saranno infatti ben 420 le auto d'epoca a transitare domani in città in uno spettacolo davvero garantito la corsa più bella del mondo torna sulle strade di pesaro domani mercoledì 14 giugno la provincia sarà attraversata dalle 420 auto d'epoca dell'edizione 2023 della mille miglia dallo star di brescia capitale della cultura 2023 dove oggi è partita la prima tappa a pesaro capitale della cultura 2024 dove transiterà la seconda tappa che da cervia condurrà a roma seconda di cinque tappe che partirà mercoledì da cervia milano marittima e attraverserà il nostro territorio passando da san marino urbino per poi proseguire su tavuglia pesaro fano e senigallia un passaggio orario previsto nel territorio in una orientativa finestra compresa fra le 8 e 30 e le 14 ma che nel centro di pesaro dovrebbe avere il suo club attorno alle 9 45 la competizione passerà per la statale adriatica attraverserà porta rimini e si dirigerà poi in via passeri via branca in piazza del popolo dove ci sarà il controllo timbro in viale della repubblica sosta per il controllo orario dopodiché si lascerà la città passando per viale trieste via zanella viale della vittoria proseguendo verso fano a pesaro gli unici tratti stradali chiusi al traffico saranno quelli di via rossini largo aldomoro e viale della repubblica previste anche un centinaio di ferrari in quella che sarà un museo viaggiante di auto d'epoca della corsa nata nel 1927 e che vede piloti d'eccezione in competizione a cominciare da andrea vesco che a caccia di quella quarta vittoria consecutiva che sarebbe un record per le mille miglia da venerdì l'ido di fano si veste a festa per la seconda edizione di boomerang rewind festival una rassegna che ripercorre i fasti di un'epoca indimenticabile come quella degli anni 80 e 90 e lo fa attraverso storie personaggi e musiche iconiche di l'idea soprattutto credo che sia emozionale no sull'onda dei ricordi delle emozioni di quelli che sono stati sono stati gli anni 80 gli anni favolosi che ci ricordano ci evocano tante tante storie tanti personaggi come non ricordare noi mondiali dell'82 per esempio il nostro il nostro papa oppure il nostro presidente pertini no quindi sono tutte quelle immagini quelle nostre questi quei nostri ricordi che ci hanno portato fino ad oggi a dobbiamo dirlo a una certa età ecco questa età che comunque ecco nell'onda della nostalgia abbiamo voluto rievocare proprio nella zona qui del litorale fanese no per riportare tutto quello che è stato prima dell'avvento dell'informatica dell'online del del vvv ecco insomma e da lì poi riproporre tutto quello che è la musica le auto eccetera eccetera la madrina della manifestazione un po' è già stato spoilerato sarà Cristina D'Avena che sarà con noi la prima sera e farà il taglio del nastro la sera successiva avremo ospite Francesco Baccini e la domenica invece sarà tutta dedicata a Vasco con ospite il saxofonista di Vasco che è Andrea Innesto ma anche con un momento sportivo importante con Totò Schillaci ma non è tutto qui è musica di grandissimo livello ci sono musicisti band che vengono da tutta Italia c'è una band meravigliosa che viene da Bari ci farà rivivere tutti gli anni 80 ci sarà sul palco Luca Vagnini che ci intrattiene col famoso karaoke anni 90 di piazza che insomma tutti ci ricordiamo condotto da Fiorello noi l'abbiamo affidato al grande Luca Vagnini cantautore fanese conosciutissimo e ci saranno i Catch the Giant ci sarà Asia che è una rivelazione una ragazza molto giovane che ci farà rivivere la versione moderna dei brani degli anni 80 e quindi tantissima musica ma non solo la zona party dove comunque come l'anno scorso insomma gestita con l'intrattenimento dei DJ set e ben 14 installazioni fisse da Star Wars alle auto dalla macchina del cinema quest'anno ospiteremo a Zard quindi avremo il generale lì a tutti i personaggi di quell'epoca al ristorante la novità di quest'anno avremo un ristorante tutto dedicato alle specialità degli anni 80 tanta arte quindi sia cinematografica con anche un grande ospite che è l'attore Giorgio Vignali che verrà a portarci Sapore di Mare che quest'anno compie 40 anni e che altro dire la mostra dedicata a Enzo Sciotti curata da Andrea Giumaro con dei pezzi inediti donati proprio dalla famiglia che Enzo Sciotti è mancato un paio d'anni fa la realtà virtuale, novità di quest'anno insomma tantissime cose che dovete venire a scoprire sul percorso l'anno scorso abbiamo fatto due giornate sabato e domenica quest'anno partiamo dal venerdì quindi venerdì sabato e domenica ma con un'anteprima addirittura il giovedì quindi dal giovedì già avremo delle anteprime e poi avremo tre giorni di pura manifestazione Fano che si attrezza come siamo abituati ormai da diversi anni a vivere un'estate intensa con tanti eventi e tante iniziative di alto livello e Boomerang ne è una conferma alla sua seconda edizione quindi mi verrebbe da dire buona la prima perché ha avuto tanta partecipazione con ospiti illustri che riguardano un po' quel periodo dalla musica al calcio alla radio quindi grandi protagonisti ma è Boomerang un evento anche per immergersi in quegli anni divertendosi Un'altra grande manifestazione una settimana fa circa eravamo qui a tagliare il nastro nella zona del Lido oggi siamo qua con un'altra grande manifestazione che richiama gli anni 80-90 una bellissima dia di on stage ma in realtà di tutti gli esercenti del Lido che collaborano con una serie di aziende, una serie di associazioni culturali che vanno veramente ringraziati perché fanno una vivacità culturale enorme però ecco in questo weekend arrivando qui nella zona del Lido, Porto e Arzilla una serie di eventi e attività che richiamano gli anni 80-90 quindi possiamo trovare videogiochi, tornei di subuto piuttosto che personaggi e spettacoli importanti quindi musica tutte le sere in varie zone del Lido ma anche la presenza dell'Eterna, Cristina D'Avena, la presenza di Baccini, la presenza di Totò Schillacci insomma sarà un altro bellissimo weekend da vivere nella città di Fano E torniamo su Pesaro per parlare di Archeo DJ Set un evento innovativo di biblioteca e musei oliveriani che venerdì coniugherà musica, cultura e divertimento in una veste davvero inedita Musica, cultura e aperitivo un trittico atipico ma sul quale crede molto l'Ente Olivieri da qui nasce Archeo DJ Set un evento che mescola questi tre ingredienti mirato a coinvolgere un pubblico eterogeneo portandolo alla scoperta del rinnovato Museo archeologico oliveriano venerdì 16 giugno dalle 19 alle 23 il cortile di Palazzo Almerici accenderà i riflettori sull'ennesima iniziativa che l'Ente Olivieri ha programmato in vista di Pesaro 2024 Abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa così un po' inusuale diciamo per la città di Pesaro abbiamo pensato di aprire il Museo archeologico tra l'altro in occasione delle giornate europee dell'archeologia quindi insomma abbiamo anche accolto insomma anche l'invito dell'Europa a festeggiare l'archeologia a farla in maniera un po' inusuale soprattutto così anche rivolgendosi a un pubblico che forse è meno abituato a frequentare sia il museo che la biblioteca e abbiamo così messo insieme questo archeo DJ set quindi avremo la possibilità nella serata di venerdì di visitare il museo, anche la biblioteca per chi lo vorrà e nello stesso tempo di ascoltare della buona musica musica elettronica soprattutto e anche di fare un paio di brindisi in nostra compagnia quindi siamo molto contenti di questa iniziativa e ci aspettiamo anche che soprattutto ecco il pubblico anche dei più giovani e di quelli che magari ci conoscono un po' meno vogliano passare con noi questa serata e finalmente conoscerci un po' di più un evento interattivo e culturale cullato dall'ente Olivieri assieme alla Fondazione Pescheria e Pesaro Musei godendo del patrocinio del comune per assistervi occorrerà disporre del biglietto dal costo di 12 euro insieme al quale saranno compresi due calici di vino da accompagnare alla visita guidata in sottofondo la suggestività della musica elettronica per la prima volta avremo un DJ set all'interno di una biblioteca museo quindi musei e biblioteca aperti visita guidata ci sarà anche l'aperitivo ma soprattutto la parte musicale avremo il DJ che è il DJ della VL però è stato umilissimo nell'ascoltare ciò che volevo perché tutto sarà incentrato sulla musica elettronica non abbiate paura di questo termine elettronico lui ci porterà Pahle all'interno di questa musica più easy più semplice all'ascolto dopodiché lascerà al posto a Jacopo Mariotti con violoncello che farà entrare all'interno di una scheda musicale e partirà piano piano il concerto insieme a Paolo Tarsi durerà circa un'ora e mezza poi ripartirà un'altra volta a Pahle DJ saranno con immagini visual le abstract imaging saranno puntate nel muro del museo sarà qualcosa di veramente molto molto bello sono due elementi quello della musica e dell'aperitivo che cercano di coinvolgere ancora di più i ragazzi alla cultura qual è la musica che suonerete? nel senso c'è una particolarità della vostra musica che di solito producete per questo tipo di evento? la particolarità in realtà è che è una musica che non si fa di solito quindi abbiamo l'opportunità di venire in un posto particolare e ci associamo a una scelta, a una selezione particolare che è tutta la musica elettronica dagli anni 80 ad oggi e io prediligo qualcosa che non sarà ballabile ma più di intrattenimento e anche per portare alle orecchie delle cose che sia radiofoniche che purtroppo televisive non vengono più passate e che le nuove generazioni non conoscono per quanto mi riguarda mi sento abbastanza a mio agio perché comunque ho suonato molto anche nei musei quindi ho portato la musica elettronica anche in questi contesti e sicuramente sono convinto che sarà sicuramente molto efficace come connubio poi nel mio caso suonerò insieme a Jacopo Mariotti che è un violoncellista e metteremo insieme i suoni acustici del violoncello con l'elettronica anche Gradara aderirà alle giornate europee dell'archeologia quest'anno infatti la ROC ospiterà un'iniziativa pensata appositamente per i bambini offrendo la possibilità di avvicinarsi in maniera ludica e creativa al mondo dell'archeologia nasce così a tutto mosaico in programma il 16, 17 e 18 giugno un evento in cui tessera dopo tessera mettendo in gioco la creatività i bambini avranno modo di sperimentare tecniche e materiali inusuali dando forma al proprio personale manufatto il Parco Miralfiore di Pesaro si prepara ad accogliere danza e musica dell'Africa occidentale insieme all'associazione Folà che da domani e per i successivi tre mercoledì di giugno proporrà il suo corso di danza africana nel segno di Pesaro città creativa della musica UNESCO e concludiamo il nostro telegiornale con lo sport perché non ci sarà un rap e jater infatti ufficiale l'addio del tecnico croato dalla panchina della VL attraverso un comunicato ufficiale la Carpegna Prosciutto Basket ha annunciato oggi che dopo accurate riflessioni e valutazioni e non potendo il club allo stato attuale accogliere le aspettative di Repegia in relazione alla prossima stagione aconistica la società ha comunicato la decisione condivisa di non proseguire il rapporto con l'allenatore ora la società di Costa pensa a tanti nuovi sul tacquino per la successione da De Raffaella Sacchetti da Buscaglia fino al ritorno di Banchi si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti in questa serata di martedì sul canale 80 a cominciare dalle 20 quando andremo a conoscere una nuova attività di Vallefoglia ovvero l'ortofrutticola made in Italy di Montecchio nuova attività che è inaugurato proprio nella giornata di domenica scorsa a seguire vi proporremo due documentari si comincia alle 21 e 20 con Vincenzo Cecchini l'area della pittura realizzato da Nico Fossati Vincenzo Cecchini è un pittore nato a Cattolica che rievoca passando per le sue esperienze tutto ciò che gli è stato di ispirazione per creare un metodo artistico con cui raccontare le emozioni della sua vita un documentario che nasce parallelamente con le esposizioni delle sue opere realizzate tra il 2015 e 2022 e poi alle 21 e 40 la sacra conversazione opala di Brera di Piero della Francesca che è il capolavoro che cambierà l'arte europea e in questo documentario Giuliana Polli ci propone uno studio iconografico su questa opera e poi vi ricordiamo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con il nostro Antonio Astuti che vi porta che vi accompagna al primo sguardo della mattina sui quotidiani locali con la nostra segna stampa Buongiorno Rossini come detto tutti i giorni in diretta dal lunedì al sabato a partire dalle 7 e 20 e poi vi ricordiamo anche l'app di Rossini TV vi invitiamo a scaricare questo strumento utile per avere sempre a portata di clic la possibilità di consultare le nostre notizie il nostro palinsesto o anche per inviare segnalazioni alla nostra redazione Ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio per averci seguito